Su iniziativa del prefetto Di Vincenzo, ieri si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per esaminare gli ultimi fatti accaduti nel centro storico della nostra città. L'opinione diffusa nella riunione è che questi episodi non sono più tollerabili, certo prevenire e prevedere episodi del genere non è semplice ma la frequenza con la quale questi episodi stanno accadendo nel nostro centro storico ci spinge a fare qualcosa in più, aumentare il presidio sul nostro territorio in fase preventiva. Tutte le volte che questi episodi si sono verificati e per questo faccio i complimenti alle nostre forze dell'Ordine, i responsabili sono stati subito identificati, fatti ricostruiti anche all'ausilio delle telecamere presenti in città. Ma come vi dicevo la frequenza di questi episodi oggi ci spinge a dover aumentare le misure di presidio del territorio perché il nostro centro storico ormai ricostruito e frequentato da decine di famiglie e centinaia di turisti non può essere lo scenario di questi episodi che vanno sicuramente prevenuti e stroncati.